Cresce la preoccupazione per l'aumento dei ricoveri a causa del Covid. Per questo motivo la ASL di Termo ha avviato una nuova riconversione dei presidi ospedalieri. Il primo ad essere riconvertito è il nosocomio a Triano, come avvenuto nella prima fase della pandemia. A partire da oggi sono stati individuati 72 posti letto in più per i pazienti Covid, 37 nel reparto di medicina, 17 nella lungodecenza Covid e 18 nella riabilitazione respiratoria post-Covid. Praticamente stiamo tornando indietro, ma questa era una previsione che avevamo già fatto quando abbiamo riaperto tutta la parte non Covid, che evidentemente per fronteggiare una eventuale terza ondata avremmo riconvertito in Covid i reparti puliti. Adesso da oggi verranno allestiti 37 posti di medicina, sabato avevamo allestito i 18 di riabilitazione che purtroppo ai miei sono già pieni, quindi da oggi inizieremo a ricoverare i Covid nella medicina pulita che viene trasferita per una quota parte nel reparto di pediatria. Però speriamo che l'andamento sia questo e non diventi ancora di più, che non peggiori. Oggi un nuovo incontro dell'unità di crisi per fare soprattutto un po' il punto della situazione? Sì, per rifare il punto della situazione a livello aziendale, devo dire che l'organizzazione tiene e quindi in questo momento non siamo in affanno, non ci sono criticità. Ricordiamo che l'Asle di Teramo ha anche pazienti che provengono dalla Pescara? Sì, anche e soprattutto il presidio di Atri che fronteggia ovviamente Pescara, che è il presidio più vicino a Pescara, insomma in cui molti cittadini afferiscono, vengono ad Atri, si recano direttamente a pronto soccorso di Atri conoscendo bene le criticità anche del nostro conio pescarese. Quali sono le cure che stanno dando buoni risultati? Devo dire che gli attuali anticorpi che usiamo, il baricitinib, il tocilizumab, comunque sembrerebbero funzionare. La terapia steroidea dal primo momento, fondamentalmente in questa fase devo dire che l'aspetto è di una malattia probabilmente un pochino meno aggressiva. Una cosa in più che abbiamo notato e che credo che questo ovviamente dipenda dalle vaccinazioni che sono state effettuate agli ultriottantenni è che la popolazione che si ricovera è comunque più giovane rispetto alla seconda ondata.